Abbiamo avuto infine una relazione del Presidente della Banca Centrale Europea sulla condizione dell'economia europea in cui sostanzialmente Draghi ha ripreso alcuni dati sull'andamento dell'economia europea, dei tassi di crescita, dell'inflazione che giustificano a suo avviso delle valutazioni positive ma contemporaneamente anche la necessità di proseguire nelle politiche di cosiddette di quantite visi, di sostegno, nelle politiche monetarie seguite fin qui dalla Banca Centrale Europea. E su questo c'è stata una discussione perché naturalmente, questo vale anche per l'Italia, il fatto che ci siano dei dati macroeconomici positivi, incoraggianti e ci sono anche nel nostro Paese non significa che questo immediatamente poi si traduca in conseguenze sul piano sociale, sul piano della percezione dei nostri concittadini. Quindi sempre fare attenzione a non accontentarsi dei dati macroeconomici anche quando i dati macroeconomici come avviene in questo momento in Europa sono piuttosto incoraggianti. L'Europa oggi ha una crescita in quanto Unione Europea leggermente superiore a quella degli Stati Uniti.